Esclosivamente di questo, ma non era mia intenzione, come non è mia intenzione venire qui a annunciare la terza guerra mondiale, era una conferenza normale per me, però se possiamo parlare di quello, credo che sia stato quello che è sempre stato, con i giocatori un po' più richiesti, sono delle esperte, delle richieste, quindi credo che sia importante per me, visto che ancora non ho parlato, ne ho letto in tutti i colori, dire la mia, la mia, nel mio punto di vista è stato questo, io sto qui, sto bene qui, non ho mai chiesto a nessuno di andare via, mai, mai, messaggi, mancini, telefonate, frati che vi avrebbe detto, è stato scritto veramente tutto, non è la prima volta, Mentre alcuni articoli mi fanno sorridere, perché poi vestivano sempre le stesse persone, giornalisti con i quali ho delle cause in corso, insomma, è roba vecchia e credo che mi interessa anche di giudibilità, altre cose, queste scritte sono grave, perché possono far pensare male la gente, e poi è una delle informazioni più importanti per me, l'unica cosa che posso promettere a tutti quanti, è che un giorno vorrò andare via dalla Roma, se mai succederà, io ho le dubbio che io andrò fino a matti, ma potrebbe succedere, vero qua e vi dirò, voglio andare via dalla Roma, voglio andare a vincere la Champions League, piuttosto che il campionato tedesco, voglio guadagnare 20 euro di più, ne prenderò la responsabilità mia, come è giusto che è normale, una persona a 30 anni fa, voglio andare via, lo dico, non è mai successo, mai, né più in conferenza, né davanti ai dirigenti, né con emissari, di altre squadre, o negli altri campionati, questa è la mia verità, noi possiamo parlare di mille altre cose, immagino poi essere belli e ben nati, ma almeno per detto la mia verità, spero che ci vi piacere, spero che la mia onestà, quella che ho portato avanti per tutta la mia carriera, sia almeno, come posso dire, una garanzia dal suo punto di vista, e quando ci stavo da parlare di soldi, che lo vedevamo al contratto perché volevo dei soldi in più, l'ho detto, senza falsi, senza ipocrisia, senza problemi, io non ho mai chiesto di andare via dalla Roma.